dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini direvi riba 00 capitolo 5 vidi mia figlia sospesa in aria i suoi occhi rossi come il sangue si scontrarono con i miei color nocciola mi sigelò il sangue mi avvicinai lentamente in modo da evitare qualsiasi tipo di inconveniente all'improvviso cadde ma fortunatamente la presi al volo evitando incidenti più grandi come una commozione cerebrale o peggio gli occhi lentamente iniziarono a tornare il colore originale la pelle da rossastra divenne rosea la portai nuovamente nella stanza e la misi a letto sotto le coperte visto che sembrava un cubetto di ghiaccio accidenti svegliai mia moglie gli raccontai tutto quanto dalla a alla z ma che ti sei bevuto e non dirmi che non mi credi non è che non ti credo è che tutto è così strano quindi non mi credi giusto amore non prenderla male senti è successa veramente questa cosa se non mi credi arrangiati quando lo vedrai con i tuoi occhi mi darai ragione dai buonanotte andai verso la camera di mia figlia per vedere se stesse dormendo ma la senti parlare con qualcuno così con sguardo beffardo decisi di origliare da dietro la porta madonna ne ho le palle piene di tutta questa faccenda prima me la ritrovai sospesa in aria che per poco non mi venne un infarto e ora parla da sola giulia veramente basta mi sento strana stai zitta perché c'è qualcuno che ci sta spiando vado a vedere matteo ad un certo punto senti dei passi venire verso di me all'improvviso si aprì la porta e mia figlia iniziò a guardarmi in credula come se fosse l'incarnazione di un fantasma per poi tornare a guardare dietro di lei amore con chi stavi parlando papà esci dimmi con chi stavi parlando no tanto non mi credi ora ho sonno ciao e buonanotte mi chiuse la porta in faccia ma poi senti una voce che disse hai fatto bene sara andai in ufficio per pensare ho troppe conclusioni strampalate del tipo e se mia figlia fosse pazza da manicomio troppe domande e zero risposte ma soprattutto che cazzo è giulia provai a chiamare mario ma nulla non rispose così provai a parlare ad alta voce per fare il quadro della situazione strano però quest'uomo prima dice che mi avrebbe aiutato e poi mi lascia così su due piedi ammetto di essermi incazzato con lui ma nessuno mi crede accidenti non so più cosa fare dovrò cavarmela da solo neanche marta mi crede forse anche io non ci credo non è una cosa da tutti i giorni vedere la propria figlia sospesa in aria non so da dove partire però di una cosa sono certo questa giulia c'entra qualcosa con tutto questo da quando vedi quelle dannatissime cassette tutto cambiò mia figlia iniziò a comportarsi in modo strano anzi stranissimo mia moglie iniziò a staccarsi da me forse mi crede pazzo e forse non ha tutti i torti però se non mi appoggia lei che è mia moglie non ce la posso fare andai in camera presi una pillola di calmante e mi addormentai profondamente grazie